Musica Buongiorno e buon inizio di settimana il 10 gennaio lunedì in regia questa mattina Donato Mignogna. Come anticipato ieri dalla protezione civile con un'allerta gialla, la neve è arrivata in Molise da questa notte. Nevica su gran parte della regione, circa 10 centimetri questa mattina a Campobasso, però dobbiamo dire che sono già all'opera intorno alle 5.30 diversi mezzi spartineve. Le forze dell'ordine raccomandano la massima prudenza sulle arterie e soprattutto sui viadotti. Il maltempo dovrebbe continuare anche nelle prossime ore. Cambiamo argomento, siamo sulla cronaca per riferire di un incidente, l'ennesimo incidente mortale sui campi. Ha perso la vita un quarantenne ieri nei pressi di Mafalda. Ci dice di più in questo servizio, Andrea Nasillo. Una tragica fatalità nei campi, alle porte di Mafalda. Un giovane di Montenero, Vittorio Quaglia, 40 anni, stava lavorando in un terreno del paese, impegnato a quanto pare nella semina. In un attimo, per cause in corso di accertamento, si è verificata la tragedia. Forse il giovane ha provato a lanciarsi dal mezzo, ormai fuori controllo, ma la dinamica e le cause sono al baglio dei carabinieri. Resta il dramma, il dolore. Un giovane molto conosciuto sia a Mafalda che a Montenero. Sul posto sono arrivati subito carabinieri, vigili del fuoco e operatori del 118, che avrebbero provato a rianimare il quarantenne. Ma non c'è stato nulla da fare. Una famiglia travolta dal dolore. Intere comunità sotto shock. Ancora una giovane vita spezzata da un destino crudele. E adesso parliamo del Covid con il report diffuso ieri sera dall'azienda sanitaria regionale Servizio e di Piacentino Salati. Anche il bollettino Covid della domenica fa registrare un alto numero di nuovi contagi accertati. Ci sono 393 positivi. Di questi 97 originano da tamponi molecolari refertati dalla ASREM. In totale 566. Gli altri 296 positivi sono quelli censiti a seguito dell'inserimento nel bollettino dei tamponi antigenici effettuati nelle farmacie e nei laboratori autorizzati. Il tasso di positività considerati tamponi molecolari è di poco superiore al 17%. Sul fronte ospedaliero ci sono tre nuovi ricoveri da Campobasso Termoli e Sessano del Molise, ma anche tre dimissioni da reparto di malattie infettive del Cardarelli. Restano 30 i pazienti che devono curarsi nella struttura ospedaliera di Campobasso. Di questi 14 sono i non vaccinati, 7 vaccinati con seconda dose o dose unica, 9 vaccinati con terza dose. Nel bollettino anche 10 guariti. Gli attualmente positivi regione salgono a 4711. Quanto ai contagi nei comuni 60 casi a Campobasso, 47 a Benafro e da segnalare 25 casi a Campochiaro. E con la prima edizione del telegiornale è tutto, adesso uno sguardo ai quotidiani. Siamo sul web sul giornale de Molise.it, in apertura la cronaca con questa notizia. Tragico incidente agricolo a Mafalda muore un quarantenne di Montenero di Bisaccia. Lo avete sentito anche nel nostro Tg. Poi il Covid, 393 nuovi positivi. Restano 30 i ricoverati al Cardarelli. Anche spazio alla politica. Le opposizioni tentano la spallata. Toma si lavora alla mozione di sfiducia. Scorriamo ancora la OMA. Neve su molti comuni della regione. Temperature in picchiata. E intanto, come leggiamo, la neve blocca l'Alto Molise. Scuole chiuse a Civitanova del Sannio. Dal web alla carta stampata con primo piano. Il virus non molla ancora 393 contagi. Più contenuti dei giorni scorsi, ma i numeri restano elevati. Gli attualmente positivi sono 4.711, 3 ricoveri e 3 dimessi. 30 gli ospedalizzati. Un anno fa erano 65, di cui 7 in terapia intensiva. Tanto al Veneziale, casi fra i sanitari, le urgenze cardiologiche dirottate altrove. C'è anche la notizia di Cronaca. Vediamo più in basso con questa fotonotizia. tragico incidente nei campi, muore agricoltore di 39 anni. Vittorio Quaglia stava seminando in un terreno a Mafalda, quando ha perso il controllo del mezzo ed è rimasto travolto. Restiamo a centro pagina con alcuni richiami. Il maltempo dall'Alto Molise a quote collinari. È tornata la neve diramata. L'allerta da parte della protezione civile. Test rassicuranti. Ecco i comuni dove la scuola riapre in presenza e all'interno di Primo Piano. In alto, le FAC, Antigeni, Molecolari e Quarantena. C'è arrivato il Vademecum da parte dell'azienda sanitaria regionale. Restiamo in argomento sanità perché c'è il punto che oggi porta alla firma di Rita Iacobucci. Parola d'ordine, booster. Altre notizie. Cronaca da Venafro. Ubriaco alla guida di un SUV. Piomba sulle auto in sosta. Ora è senza patente. Da Termoli. Project financing per il trasporto. Piovono critiche. È stato definito un pasticcio totale. In basso. Post Mattarella. Greco sarà il grande elettore dei 5 Stelle. Ora tocca al centro-destra. Si parla chiaramente dell'elezione del capo dello Stato. Le notizie sportive. Quelle sotto la testata. Stadio a 14 mila spettatori. Appaltati i lavori per i tornelli elettronici e l'impiantistica. Calcio a 5 di B. Lo sporting Venafro si rinforza con l'arrivo di Pasquale Valvona. Infine il basket. Il presidente Amorosa. Orientati sul territorio e sul coinvolgimento delle scuole. E adesso l'informazione nazionale. Iniziamo con il Corriere della Sera. Questo è il titolo di apertura. Via ai vaccini anche di notte. Intanto prime iniezioni. 69 mila in un giorno. In zona gialla ci sono 15 regioni. Oggi Draghi spiegherà le misure. Ed è scontro sulla riapertura delle scuole. Lezioni a distanza in molti comuni. Andiamo a centro pagina. Robert ucciso a 17 anni dal rivale in amore. Vedete qui questa foto del ragazzo che è stato strangolato per una ragazza contesa. L'episodio a Trieste. Ci spostiamo su Repubblica. Scuole riaperte ma solo a metà. Titola Il Quotidiano. In un comune su otto le aule rimangono chiuse. Bianchi, che è il ministro dell'istruzione, prevedo assenze di personale. Intanto c'è un'intervista di Repubblica a De Luca. Il governatore della Campania. Studenti come cavi, ha detto. Poi, effetto obbligo, ripartono i vaccini. Greco dice dal CTS sì alla ripresa delle elezioni in classe. Diamo a vedere le altre notizie dagli esteri. Così il regime cazzacco imbavaglia la capitale. Web e notizie oscurati. In pochi sanno di scontri e repressioni. Da Repubblica adesso alla stampa. Draghi, il colle non mi condiziona, dice. Il premier parla intanto alle 18 in una conferenza stampa per spiegare la stretta scelta frutto di dati scientifici non di compromessi politici, è stato detto. Intanto abbiamo visto che ci sono tensioni sul ritorno in classe. e il ministro Bianchi è possibile che manchi personale. Tanto nuove regole in vigore da oggi. Lettura critica da parte del Fatto Quotidiano sull'operato del commissario Figliuolo. La resa dopo le balle. Test per studenti dai medici. Dunque scuola oggi si riapre nel marasma. Mai viste le task force del commissario che vedete qui nella foto. Anche il fatto si occupa delle notizie che arrivano dagli esteri in particolare dal Kazakistan. Tutti zitti sulla repressione. Guai a disturbare Eni. Ora la verità. Scuola e trasporti il giorno del caos. Sono riusciti a far peggio del governo Conte. Oggi fra mille proteste riprendono le elezioni. Però la riapertura è virtuale. Tra assenze, norme cervellotiche e il nulla fatto per migliorare la situazione nelle aule, la DAD è inevitabile. Scrive la verità. Scatta anche l'obbligo di super green pass sui mezzi pubblici e treni. Ma le corse sono falciliate dalla carenza di personale per quarantena. Trentino intanto ribelle. Non applichiamo il decreto. Questo covid letale come l'influenza. È una frase virgolettata. A parlare è a Bregnani del Comitato Tecnico Scientifico. Tra i vaccinati rischiano solo gli ottantenni già malati. Fa bene chi vive libero e va al ristorante. Basta dare i dati dei positivi. Bisogna dunque comunicare i ricoveri. Fate i test soltanto se state male. Insomma, questo è quello che scrive Libero. Andiamo a vedere altre notizie. Le nostre bollette schizzano perché l'Europa ha scelto così tabarelli di nomi. Ma dice a noi serve il nucleare. Se ne sta parlando molto in questi ultimi giorni. Il quotidiano romano Il Tempo. Due testardi sui banchi. Draghi e bianchi riaprono oggi la scuola nel momento peggiore. E rischiano così di mettere benzina sul virus. Il sole 24 ore del lunedì dedica, come la tradizione, un focus su diversi argomenti. Oggi si parla del 110%. Dunque dal 110% ai mobili. Ristrutturazioni aiutate dal fisco. La mappa 2022. Per i condomini 24 mesi di lavori al 110%. Corsa contro il tempo per le villette. Mentre il bonus facciate al 60% perde a PIL. Chiudiamo il quotidiano di Confindustria. Ci spostiamo sul mattino di Napoli. Scuole aperte contro la scienza. Anche qui è una dichiarazione, una frase virgolettata. C'è un'intervista a Ricciardi che è il consulente del ministro Speranza. I dati consigliano il rinvio. Rischio di richiudere. Il ministro Bianchi, possibile, abbiamo visto che manchino i professori. Tanto l'ordinanza di De Luca oggi decide il TAR. È stato deciso appunto di ricorrere al tribunale amministrativo contro l'ordinanza del governatore. Il secolo d'Italia, l'inciucio del post Draghi, spunta l'idea gentilonica. Qui vedete nella foto in basso. Anche qui il Covid, secondo Bassetti, in primavera avremo l'immunità di Greggie. Ci spostiamo sulla Gazzetta dello Sport. Titolo in evidenza, Inter testa al bacio. Continua il derby scudetto. Lazio battuta 2-1 con i difensori. Bastoni, Scho e Skriniar. Resta prima con l'ottava vittoria di fila. Mercoledì a San Siro, Supercoppa con la Juve. Ma il Milan, scrive la Gazzetta, è sempre lì. Tre reti a Venezia e rimane a meno uno. In alto Juve, gioia e cracca. L'Olimpico Roma avanti 3-1. Poi il 4-3 dei bianconeri. Rimonta special su Morigno in sette minuti. Ansia per Chiesa. Si teme il crociato. Bene, anche oggi con lo sport terminiamo il primo appuntamento con la nostra informazione che torna alle 14 con la seconda edizione del telegiornale. Grazie per averci seguito. Buona giornata. Grazie a tutti.